È sabato mattina in via Salaria e i negozi riparazioni Enrico e Boutique Maria sono tre più frequentati nel quartiere. Qual è il loro segreto? Sanno come utilizzare la rete Google per raggiungere i clienti che stanno cercando. Il termine rete Google indica tutte le posizioni in cui è possibile pubblicare gli annunci Outdoor, la ricerca di Google e siti di ricerca che collaborano con Google per pubblicare annunci, pagine web più visitate, addirittura nelle app per cellulari. Sono molte le posizioni in cui puoi pubblicare i tuoi annunci. La rete Google è suddivisa in due grandi aree, la rete di ricerca e la rete display. Per impostazione predefinita, le nuove campagne Outdoor usano sia la rete di ricerca sia la rete display per ottimizzare la visibilità degli annunci. Tuttavia, molti inserzionisti si avvalgono di altri tipi di campagne AdWords che utilizzano solo una delle due reti. Diamo un'occhiata a ciascuna. Enrico è davvero entusiasta della rete di ricerca. La rete di ricerca include i ben noti annunci di testo che vengono pubblicati sopra e accanto ai risultati di ricerca Google, su altri siti Google quali Maps e Shopping e sui siti web che collaborano con Google per la pubblicazione di annunci chiamati partner di ricerca. Le campagne a rete di ricerca funzionano collegando le tue parole chiave di AdWords a parole o frasi usate dagli utenti per eseguire le ricerche su Google. Enrico ha ben poco tempo a disposizione da quando ha avviato il nuovo servizio di riparazione ai tetti. Quindi apprezza il modo in cui la rete di ricerca consente la rapida operatività della sua nuova campagna e facilita il contatto con i clienti nel momento stesso in cui cercano riparazione ai tetti, sia che lo facciano da casa con il loro laptop o con un dispositivo mobile. Maria utilizza la rete display per gran parte della pubblicità della sua boutique. La rete display utilizza supporti visivi che catturano l'attenzione, come contenuti multimediali e video, per abbinare gli annunci a siti web che includono contenuti correlati al tuo targeting e ti consente di selezionare posizionamenti, argomenti e segmenti di pubblico per i tuoi annunci. Gli annunci della rete display possono essere pubblicati su siti Google quali YouTube, Blogger e Gmail, oltre che sommiglioni di famosi siti web in tutto il mondo. Di fatto, la rete display raggiunge quasi il 90% dei consumatori online in 100 paesi e 30 lingue, offrandoti ulteriori opzioni per raggiungere un pubblico molto ampio o estremamente selezionato. La sfida più impegnativa di Maria è distinguersi dalla concorrenza. È quindi alla continua ricerca di nuovi modi per attirare l'elegante clientela di circa 30 anni che acquista nel suo negozio. La rete display la aiuta a raggiungere questo pubblico, visualizzando i suoi annunci nelle aree in cui esistono maggiori probabilità di trovare i suoi clienti. Qui, ma non qui. Qui, ma non qui. E così via. Se le tue esigenze sono simili a quelle di Enrico o più vicine a quelle di Maria, la rete Google può aiutare la tua attività a inviare il messaggio giusto al pubblico giusto. Per ulteriori informazioni sulla rete Google e sui tipi di campagna, visita il centro assistenza Outdoor.